E' vero. E di cosa parla questo libro? Di... Comunione e Liberazione. L'hai fatto da solo? No, no, con... Con chi l'hai scritto? Forza, rispondi Ernesto. Sebastiano Canetta. Ancora lui? Ma insomma proprio non vi interessa avere degli amici, eh? Sono molto preoccupato Ernesto, sono molto preoccupato. Ma perché scusa? L'anno scorso il libro sulla Lega Nord, quest'anno Comunione e Liberazione. L'anno prossimo contro chi vi metterete? Eh? Steve Jobs? Ma... Steve, è morto. Beh, questo proprio non me l'aspettavo da voi. E mica siamo... Senti, la situazione è molto grave. Che ne dici di passare da me, eh? Va bene, va bene. Quando? Bah, direi l'undici novembre. Passa di qua così ne parliamo un po', eh? Cerchiamo di... ...spiegare meglio la cosa... Loro. Cosa? No, dicevo così, è il titolo del libro. Non c'è niente da scherzare Ernesto. Vieni qua venerdì undici, ti aspetto alle diciotto e trenta. Sei sempre lì in Vicolo Ponte Corvo 1? Sì, 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 nella foresta. Va bene, posso dirlo anche a Sebastiano? Ancora? Lo sai che mi sta sulle balle quello lì. Però... Va bene, forse è meglio parlarne anche con lui. Ok, ci vediamo allora. Ciao!